salve amici adesso entriamo nella vila comunale di via colombo per mostrarvi come è ridotta ragazzi è una roba pazzesca avete visto questa fontana l'acqua color cacca è una roba da pace ragazzi anche i pesci hanno paura di entrare in acqua entrano in acqua con la muta perché altrimenti prendono le infezioni guarda che schifo la fontanella sembra un film dell'orrore shining guardate qua pur la giostrina è rotta poveri bambini ma come fanno qua sopra come fanno vi vogliamo far vedere queste giostrine che sono altamente pericolose per i bambini che se arrivano possono sbattere direttamente per terra ma su così pazzi poi un bambino vuole fare un giretto guardate qua ci sono tutte cartacce ma la cosa bella dice vabbè mamma io mi vado a sedere qui sulla giostrina per girare è la giostrina praticamente tutto è fuorché buona per fare un giro si blocca è scassata anche questo questo è un oggetto della tortura qui ci sta il paraculetto praticamente chiamiamolo così qua invece non ci sta niente ed è anche tutto quanto bucato quindi un bambino quando si mette qua sopra si scafazza la cosa bella che nel cassettino immodizia non ci sta però l'immodizia l'hanno buttata tutto quanto per terra vedete tutte le bottiglie tutto quanto le cartacce e poi uno dice che veramente si è un po si è un po eccolo qui si è un po scocciato con tutto questo scoccio pure sulle panchine ma come si fa a parte che se mi voglio sedere sulla panchina sprofondo perché come vedete guarda qua inquadriamolo è qua proprio ci hanno levato un pezzo di legno e poi mi voglio alzare voglio portare il cane a così mezzo all'erbetta e come lo porto qua ci stanno bottiglie lattine cartacce cioè come lo porti il cane e il bambino come lo porti c'è una mamma che ha portato la bimba bellissima tra l'altro qui ma la giostrina è rotta come facciamo e come facciamo e facciamo che veniamo e ce ne ritorniamo a casa perché qua non si può fare niente tutto rotto ha notato qualche altra cosa che non va che qui in questa villa penso tutto oltre a quello che c'è terra tutte seggiostrine perché ormai i bambini qua non possono fare niente l'altra villa è la stessa cosa tutto distrutto per le mamme per i bambini è veramente una cosa impossibile sì perché questo sarebbe l'unico svago per i bambini perché qua dove li portiamo e veniamo qua e non possiamo fare niente mi scusi sono ragione rufantozzi volevo fare un tuffo nella fontana ma nella fontana come mi butto che sono tutte cocci di bottiglia e non c'è nemmeno l'acqua ma è uno schifo pina all'interno della villa di via colombo c'è il rischio caduta rami infatti nemmeno qui c'è stata la potatura e adesso andiamo alla villa comunale centrale quella del corso vittorio emanuele e vi facciamo dire che la situazione è simile abbiamo trovato la villa al corso chiusa e davanti al cancello un cartello scritto a mano con la dicitura chiuso per caduta rami con un commento scritto a lato stato inguaiati ma è mai possibile che al comune si ricordano della potatura a giugno all'interno poi solo giostrine sequestrate ad avellino abbiamo ville da incubo ciao 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 Ciao